Quarto fallo di Conti, mi pare aver capito Non ho visto l'arbitro con Giappato Al tiro il pistolero 5-5-6-2 Non c'è Oh, ma cavolo Spacchi la destra Dai Mara, fa la telecomica Eh, non le farà niente La telecomica Non cosa faccio di lavorare Bravo 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 Ahia Ah, iniziamo un po' a giocarmo un po' a letti Eh, va sotto il tenestro domina Eh, ma da adesso però Prima di tre quarti ha fatto un cazzo Eh, vai, l'ha fatto un cazzo Il gran suo carino Nel tra condotti Il piatto del pari Ha fatto un calcio Ke non cazzo Vai Anno Vai Anno Vai Anno Ho! 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 Allora prima della conferenza stampa lo chiamiamo l'elettricista che è venuto di corsa mi ha fatto tanto e mi trovo. Bravo, fallo! E' vero, ma lo sono a fare in relazio, lo ha fallo, questo è vero. E' in campetto, il negozio è in campetto. Ma io l'ho detto scherzando, non dovevo prendere la scala. Dai Mosca! Grazie! Grazie! Applausi! Bello, bella azione! Grazie, ragazzi! Grazie a tutti Grazie a tutti Oh my god è panza Bella È molto più tecnico, è molto più tecnico, come sembra 60-68 Risultato? 69-69 Oh, è più uno, fai così Due Oh, è più uno, fai così Buono Bravo Mara, quant'è finita l'annala? Aspetta, aspetta, basketmarket veloce Basketmarket veloce Che giornale è questa, seconda di ritorno? 60-72 Basketmarket veloce Basketmarket veloce Basketmarket veloce Basketmarket Io ti puo bevere Non ti puo pregare Io per il viola Io per i grigi Seniormarket Seconda 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 Terza Quarto Terza Quarto 话 Fui 22 Lui Se hai fatto 10 punti Quinti 22 Ma era 22 Gli hanno fatto Mi ricordo che erano tanti 22 Cacchiamo un titano Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.